Viva l'Italia Un video per rilanciare l'orgoglio dell'Italia, per raccontare quanto vissuto negli ultimi mesi dagli operatori delle aziende sanitarie e ospedaliere in tutto il territorio nazionale attraverso gli scatti fatti dagli stessi operatori sanitari. Si tratta di Bolla Covid, un tempo senza tempo, il video di Feder Sanità Anci che vede come protagonisti anche due artisti eretini, Benedetta Bianchi e Roberto Manganensi, voce e piano. Però le musiche fanno così da sfondo allo scorrimento delle immagini che ritraggono l'eccezionalità del lavoro svolto nelle diverse strutture ospedaliere, travolti dagli operatori in prima linea e toccanti momenti di vita nei reparti, con foto arrivate da ogni zona della penisola, compreso l'ospedale San Donato di Arezzo. Ad accompagnare i due artisti eretini nella cover di Viva l'Italia di Francesco De Gregori, il violino di Elisaveschi. Il tutto è poi arricchito nel finale anche da un contributo vocale di Gigi Proietti. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valser e del caffè, l'Italia berubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia.